Siracusa, evento unico al teatro greco, in scena la trilogia completa dell'Orestia di Eschilo. L'Orestia di Eschilo per la regia Davide Livermore chiuderà sabato 9 luglio la stagione di rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa. La fondazione Inda vuole offrire così al pubblico un evento unico, una vera e propria maratona teatrale con la messa in scena uno dopo l'altro dei tre drammi che compongono l'Orestia di Eschilo, Agamennone, Coefore e Eumenidi. Per rendere ancora più speciale la serata e consentire a quanta più gente possibile di assistere allo spettacolo, la giornata del 9 luglio avrà un prezzo speciale per tutti i residenti a Siracusa nei centri della provincia che potranno acquistare il biglietto a 30 euro. La messa in scena della trilogia completa dell'Orestia di Eschilo nella tradizione del greco di Walter Lapini e una coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova e chiude un percorso cominciato lo scorso anno, quando nel centenario della prima messa in scena dell'Ecoefore di Eschilo, la fondazione Inda ha deciso di produrre un nuovo allestimento dei due drammi conclusive della trilogia Eschilea, affidando la regia a Davide Livermore. La Agamennone Eschileo, sono le parole di Davide Livermore, corrisponde alla definizione stessa di classico, qualcosa che è esemplare fin dal momento della sua creazione, ma sempre vibrante ed estremamente attuale. In Coefore e Eumenidi troveremo invece un sistema di potere distrutto in un mondo algido, freddo, ricoperto di gelo e di neve. La trilogia completa dell'Orestia è in programma sabato 9 luglio a partire dalle 19.30. È previsto un breve intervallo di mezz'ora per consentire il cambio di alcuni elementi scenici tra Agamennone e Coefore e Eumenidi. I biglietti sono in vendita sia online sia nelle biglietterie in Corso Matteotti e al Teatro Greco. La stagione 2022 prodotta dalla Fondazione Inda si guiderà poi il 26 luglio con Aprile Trojan, la prima nazionale dello spettacolo di teatro danza delle Troiane di Euripide, creato dal coreografo brasiliano Claudio Bernardo. Aprile Trojan è una coproduzione europea e per l'occasione i biglietti sono in vendita a prezzo di 15 euro per la cavia bassa e 10 euro per la cavia alta.